Il Parlamento ha espresso con chiarezza la volontà di riconfermare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una volontà condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani, fra le testimonianze di stima, augure e congratulazioni ricevute, quella dell'attuale Sinaco di Palermo, Leolucco Orlando, di cui Sergio Mattarella è concittadino, deve aver gratificato in modo particolare il Presidente rieletto della Repubblica Italiana. Con questa rielezione, continua il commento del primo cittadino di Palermo, il Parlamento ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di una figura di altissimo profilo, anche in riferimento al prestigio dell'Italia in campo internazionale, a prestigio della Repubblica e della sua carta costituzionale in un delicato e difficile momento politico e sociale. Sergio Mattarella rieletto, certamente, diremo noi, ha fatto tirare un bel respiro a tanti cittadini e tanti politici, a imprese, a donne e uomini che in questi anni hanno visto in lui, come vedono ora in draghi da vicino, la differenza fra uomini di Stato e uomini in carriera. I giudizi e i commenti della stampa estera confermano non solo l'estima internazionale, ma il desiderio di non vedere l'Italia tornare fra i Paesi in preda a scorse interne in un periodo in cui, a livello mondiale, servono equilibrio, volontà di pace e capacità di dialogare con competenza sui scenari mondiali, dall'economia alla politica agli affari internazionali. Abbiamo perso un'occasione per avere una donna alla guida dello Stato? Forse. Ma così, per come sono andate le cose, per come sono state avanzate le candidature, si è avuta l'impressione di una grande sceneggiata, dove sembrava che non contasse la persona, ma il genere. Come donna non sono d'accordo. Come donna vorrei che due ore in avanti si giocassi allo scoperto per tutte le candidature, mettendo in campo titoli e valori delle persone da confrontare con i requisiti richiesti da ogni carica. E poi sarebbe anche auspicabile che le donne finalmente non aspettassero la chiamata maschile, ma si facessero avanti per concorrere con le loro idee, le loro competenze, i loro titoli, le loro capacità a guidare istituzioni politiche, economiche e sociali.